Penso a un po' te, che da ste parti c'è pure un guardarobba, ma c'è tutta cosa qua, bella luccicante, ma con chi cazzo sto parlando, c'ho qua sta telecamera che non capisco neanche se va, un po' c'è una luce rosa, però sono qua da quanto? Non lo so perchè l'orolo non va, è fisso sulle quattro, mi dà ore e ore e ore, e sono qua madonna, credo io almeno, poi pure, sono qua, i video li fai, un po', che cazzo è sta roba? Basta interferenze, basta! Oh Cri, hai trovato qualcosa di là? Sti telefoni non vanno? Eh sì, ho trovato sta radio qua, adesso vediamo un attimo se funziona, fa solo che si giova per spivaggio questa qua, è abbastanza professionale, però arrivano comunque i messaggi su sta cosa? Abbiamo la stessa, adesso vediamo con questo se riusciamo a collegarci, adesso attacco la spine, ok, abbiamo con la radio in più, passami con le cuffie appena l'altro fin qui, adesso vediamo l'antennino, si, vai, 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 do tutto qua, non su che senti niente, provo a stringere col cacciavite, Grazie a tutti.